Come riconoscere il fegato grasso? Sapevi che molte persone hanno il fegato grasso senza accorgersene? Generalmente le persone iniziano a notare i segni una volta che la condizione è progredita. Il grasso addominale o avere una pancia sporgente possono essere un segnale di avvertimento di fegato grasso. Cosa fare? Controlla la tua glicosillata con un esame del sangue. Più il tuo valore si avvicina al range superiore, quindi massimo, maggiore è la possibilità che tu possa sviluppare fegato grasso e insulino resistenza. Seguici per saperne di più.